Cosa ne pensa della nuova Ecoisola installata qui in piazza? Benissimo, anche perché il Sindaco porta nuove innovazioni tecnologiche e sono più funzionali e trasparenti. Pensa ce ne vorrebbero altre in città? Penso che sono molto funzionali, anche perché se devi andare via una settimana, ipotesi, puoi buttare tutto così non rimani niente a casa. Quindi va ad integrare il sistema di raccolta quotidiano? Esatto, esatto, perfettamente. Le sue richieste da cittadino al Sindaco? Direi maggiormente più pulizia ancora per quello che si possa fare, per le strade, le buche e tutte queste cose qua. È una buona idea, però il fatto che la gente non si comporta bene, non la sanno neanche usare, ci vorrebbe qualcuno. Però è il fattore che si trova troppo lontano dal centro, al centro non ci sta niente, quindi non la possiamo usare. Quindi ce ne vorrebbe un'altra in città? Un'altra a centro, sì, questa è. Lei ha provato ad utilizzarla? Abito a tre metri, quindi la utilizzo tutti i giorni e non fa altro che educare anche la nuova gioventù, anche le persone anziane, vedo anche le persone anziane, si adeguano, si adattano. Sono una bella esperienza, una bella cosa, funziona. Salve, lei ha appena conferito qui alla nuova Ecoisola, che cosa ne pensa di questa iniziativa? Certamente che è una comodità in più, è certamente una cosa utile. È facile da utilizzare? Come la trova? Abbastanza, insomma, sì, sì, senza altro. Le sue richieste da cittadino al sindaco? Bisogna impegnarsi e far impegnare le persone, spingere anche la popolazione a fare meglio, invogliare, ecco, invogliare. Quali sono le problematiche di questa zona, di questo quartiere? Allora, sento, fino a poco tempo fa, salendo via Aldomoro, c'erano le erbacce sui lati, che ostruivano anche il passaggio. E poi il problema, io ho il cane, però mi porto appresso la bustina, mi porto appresso l'acqua, per il problema dei cani, che la cacca dei cani, che non viene raccolta da terra, è un guaio. Da una parte c'è l'inciviltà, ma resta comunque il fatto che poi nessuno pulisce. Il discorso è questo, poi vabbè, io spazziti non ne vedo da anni, sinceramente, mi sembra un oggetto sconosciuto, operatori ecologici. Non ne vedo da anni, a Vignazzolina, soprattutto, se va vicino alle cassonette della spazzuta, trova ancora i fuochi d'artificio di quest'anno. Che ne pensa della nuova ecoisola che hanno installato qui in piazza? Se ci spiegassero a cosa serve. Serve per conferire i rifiuti? Ho provato ad avvicinarmi, ma non c'era nessuno che desse informazione. Quindi lei cosa chiede all'amministrazione? Una maggiore informazione su queste iniziative, che sono positive. Lei abita qui in zona? No, no, abito a Via del Monte. Le periferie sono abbandonate a sé, sempre. Come mai, secondo lei? Le amministrazioni non funzionano, i servizi non funzionano. Le sue richieste da cittadino al sindaco? Al sindaco? Di fare, di fare, di fare, di fare. Lei l'ha utilizzata? Non ancora, ma ci proverò. Pensa sia una buona iniziativa? Certo, Mennella sta facendo delle cose ottime. Penso che sia una cosa intelligente, che serva aiuti per, se uno magari non può scendere la spazzatura quel giorno lì, viene qua e la può lasciare. Mi sembra un'ottima idea. Lei non è di Torre? Io non sono di Torre, sono di Torino, sono in vacanza, però ho le amiche che sono di qua e per loro mi sembra una buona soluzione. Lei stamattina è venuto qui a conferire? Sì, sì, è un bel servizio, ottimo direi. È la prima volta che l'utilizza qui in zona? No, è la terza volta. Come si trova? È facile il sistema? Bene, benissimo. Se uno si dimentica di conferire in un giorno specifico, viene qua e lo conferisce tranquillamente. È una cosa ben fatta. Lei che abita in questa zona, quali sono le problematiche di questo quartiere? Primo, il manto stradale. E' in un modo ridotto, in un modo pietoso. Va bene che devono ancora completare l'opera sia idrica che altre cose, utenze varie. Però è questo. E poi il rifacimento delle segnaletiche stradali, quello è importante. Sulla circomodazione ci vorrebbe qualche dissuasore in più, perché è diventata una vista di notte impossibile. Quali sono i problemi di questo quartiere? Troppo traffico, sì, certo. Ormai ci abbiamo fatto l'abitudine. E altri problemi, che le devo dire? La polizia, la manutenzione, la sicurezza? Non ne parliamo, ve l'ho detto già la volta scorsa. La polizia quella fa, si lascia desiderare. E nient'altro, i ragazzi che sono un po' troppo trubolenti, disciplinati, queste cose qua. La cittadina cosa chiede al sindaco? Di fare qualcosa in più.